e il 24 febbraio il rito del giorno pagano della memoria. E questi sono tutti i nostri appuntamenti. Ok, detto questo passiamo un attimino a parlare del discorso sulla morte. Il discorso sulla morte è sempre un discorso difficile da fare. E' difficile da fare perché il monoteismo e il cristianesimo ha costruito il suo potere sul terrore della morte e è riuscito a distillare il terrore della morte in maniera così profonda nelle persone che tutte le persone guardano la morte come qualcosa di orribile e di pauroso. I testi di cui mi servirò per fare il discorso sulla morte vi ricordo che sono tutti in internet e sono facilmente raggiungibili. Il primo testo a cui parliamo per fare il discorso sulla morte è quello che ho messo su un blog dove metto un paio di pagine al mese, non di più e si intitola Solo la morte porta la felicità agli esseri umani. Tenete presente che questo pezzo iniziò con una discussione cioè c'era una discussione nella main list del paganesimo da cui è partito un po' tutto il discorso. Noi viviamo una società malata perché in questa società non si dà importanza alla felicità che arreca all'individuo la morte del corpo fisico. In questa società si cerca di nascondere la felicità che arreca la morte per costruire la disperazione della vita. La morte è il trionfo della vita è la felicità dell'individuo Non c'è angoscia nella morte L'angoscia non c'è nell'azione del morire L'angoscia c'è nell'idea educazionalmente imposta che le persone hanno della morte solo che l'angoscia che le persone hanno della morte è l'angoscia del loro vivere nella loro quotidianità. Chi vive trafficando in schiavi deve costringere le persone allo schiavismo mediante il terrore della morte un terrore che alimenta costantemente con la minaccia il ricatto e il dolore all'interno di una condizione in cui lo schiavo non immagina il benessere psico emotivo che la morte gli dona ma immagina un dolore gigantesco come proiezione del dolore che sta vivendo in quel momento eppure nell'esperienza di premorte NDE, Near Did Experience il paziente afferma la luce in fondo ad un tunnel calore, un senso di pace e di felicità è il tempo che smette di correre è il tempo che smette di scorrere sono gli ingredienti di tutte le esperienze di premorte raccontate da persone che hanno superato chine estreme come incidenti stradali arresti cardiaci stati di coma dopo magari tratto dalla Repubblica il 13 aprile 2006 magari dopo via accenderò l'articolo ho fatto una piccola pagina per costringere le persone a riflettere la pagina del titolo La morte è felicità umana si tratta di un concetto pagano politeista che partendo dall'idea che la vita dell'individuo come il suo corpo sia una sua proprietà inalienabile considera la morte come il trionfo delle trasformazioni della sua esistenza la somma delle sue esperienze per contro la morte è fonte di terrore e disperazione per il cristiano una disperazione che deve imporre ad altri l'individuo raggiunge la felicità solo nella morte qualcuno mi dice e questo fa parte della discussione scusa signor Simeoni allora quando è così uno si compra la pistola e si spara in fronte così sei finalmente felice gli ho risposto non ti sembra che simili azioni avvengano piuttosto spesso nella società in cui viviamo se non ti sembra che nella vita quotidiana molte persone preferiscono spararsi e ammazzarsi molte persone pongono fine ai loro affanni uccidendosi uccidendosi molte persone ritengono di essere più felici di come stanno vivendo e questo è un dato di fatto allora ci si deve chiedere che cos'è la morte è il trionfo della vita nel senso che tu non cercherai mai la morte fin tanto che la vita ti dà qualcosa attraverso il quale arricchire te stesso questo qualcosa attraverso il quale arricchire te stesso può cessare a breve per la concomitanza di condizioni di vita atroci o può presentarsi molto avanti con gli anni a mano a mano che la struttura fisica degenera e questo è il senso della felicità se la società in cui viviamo disarma gli individui davanti alle contraddizioni dell'esistenza spingerà gli individui a cercare la felicità o l'arricchimento di se stessi fuori dalle condizioni di esistenza ciò non toglie che la morte deve essere celebrata ciò non toglie che la morte deve essere celebrata come un momento felice solo i trafficanti di schiavi instillano il terrore della morte per dominare le persone la morte è una porta che si apre dove si apre dipende da noi in ogni caso sempre sulla felicità la morte come felicità umana apre un altro discorso apre il discorso sulle forti motivazioni della vita proprio in antitesi alla morte come felicità una società che si propone di fornire ai propri cittadini forti motivazioni alla vita in contrapposizione ad una società che pretenda di governare i cittadini attraverso il terrore della morte quel timore e tremore che caratterizza il cristiano sono abbastanza sottomesso alla morale del dio padrone affinché il dio padrone mi garantisca il paradiso o una buona reincarnazione o un buon karma invertire l'approccio alla morte permette alle persone di cercare motivazioni diverse per le quali vale la pena di vivere davvero pensate che il kamikaze musulmano perché fa parte dell'attualità possa avere delle motivazioni di vita superiori al dolore che prova nel vivere la situazione sociale e personale che sta vivendo davvero pensate che basta avere la promessa delle 70 vergini per farsi esplodere e il ragazzo di 18 anni si è ammazzato perché i genitori si sono separati qualche giorno fa quale disperazione viveva chi cerca la morte in realtà cerca una felicità che non trova nella vita quotidiana e cerca la felicità c'è da una società che non gli fornisce motivazioni sufficienti per allontanare dalla sua testa il desiderio della morte come unico fine unico luogo in cui trovare la sua felicità nella società occidentale la morte viene rimossa come consapevolezza da trasmettere ciò che io voglio far comprendere è che la morte è fonte di felicità questo può apparire paradossale ma provate a riflettere una società è importante perché gli esseri umani vivono in quella società producono delle merci consumano delle merci accumulano la ricchezza solo così una società è ricca la ricchezza materiale e culturale di una società è fonte di felicità una felicità che giustifica la vita in contraposizione alla felicità prodotta dalla morte se muoio non posso fare all'amore allora se io faccio l'amore e ricevo una felicità dal fare l'amore questa felicità mi allontana dalla morte mi fornisce una motivazione di vita superiore alla felicità che mi darebbe la morte ma se la chiesa cattolica costruisce la patologia psichiatrica impendendo le persone di fare liberamente sesso nonostante loro ne sentano bisogno di stimoli lo stato di infelicità che viene imposta all'individuo lo può portare o a delinquere pertanto condannato a morte o al suicidio nella ricerca di una felicità che il vivere non gli fornisce la morale cattolica militarmente imposta mediante le costrizioni sociali induce le persone a cercare la felicità nel suicidio qualunque sistema sociale trema quando gli individui vedono nella morte una fonte di liberazione qualunque sistema sociale è pronto ad usare il proprio piacere di dare di potere di dare la morte ma il piacere della morte arriva per ogni individuo anche per gli individui che vivendo una sindrome di onnipotenza in questo momento pensano di avere il diritto di decidere la vita e la morte di milioni di persone la morte è la disperazione della morte come arrivata per Voetila così arriverà per Ratzinger e arriverà per ogni vescovo criminale cattolico riflettete perché la chiesa cattolica ha avuto necessità di costruire il terrore della morte attraverso la risurrezione dei corpi per esempio riprodurre il terrore della vita in continuazione come diceva Epicuro quando noi siamo la morte non è e quando è la morte noi non siamo perché dunque averne paura la morte è felicità ed è felicità anche per un disperato come Voetila in quanto anche se non ha partorito il suo corpo luminoso se non altro ha messo fine alle sue angosce che la degenerazione del corpo fisico e mentale gli procurava si ha paura della morte solo perché c'è la disperazione la disperazione di non aver vissuto si muore come si è vissuti e si vive in funzione della propria morte non c'è un corpo fisico con cui si rinasce c'è piuttosto una nascita con il corpo di energia che abbiamo costruito nel corso della nostra esistenza ma l'esistenza deve essere ricerca del piacere manifestazione di felicità sia in potenza che in essere la morte del corpo fisico per il pagano politeista si traduce nella felicità della nascita la nascita del corpo luminoso che è incubato è costruito dentro se stesso nel corso di tutta la sua esistenza la morte come felicità è un concetto pagano da come tu pensi la morte così organizzerai la tua vita bene questo pezzo che è relativo a sola morte porta la felicità agli esseri umani è stato messo in blog provate un attimino a riflettere sulle condizioni di partenza le condizioni di partenza sono che tutti noi comunque moriamo Berlusconi crepa e creperà esattamente con le sue forze fisico-psichiche come qualunque altro cittadino sarà solo un pugnetto di cenere una merda che sarà in una tomba né più né meno che l'ultimo barbone che troveremo per strada e anche se lui si ritiene onipotente tanto da rovinare la vita delle persone comunque farà quella fine ma noi non siamo abituati a deridere chi è morto cioè non siamo abituati a dire sei comportato da merda nella vita hai rovinato la vita a milioni di persone adesso sei solo una merda perché questo perché chi ha il potere sulla vita delle persone ritiene che si deve essere pietosi nei confronti di chi è morto vabbè ha rovinato la vita delle persone ha stuprato milioni di persone ha fatto le guerre ha buttato bombe ha fatto intrallazze ha fatto il mafioso ma è morto è la miglior persona di questo mondo no sono stronzo hai fatto del male alle persone e hai fatto del male da stupido perché tanto sei crepato una merda c'è questo l'atteggiamento che dobbiamo avere nei confronti della morte perché la morte è felicità e lo è felicità soltanto per quelle persone che hanno vissuto la morte consapevolmente hanno vissuto in funzione della morte prendete io per esempio in questo momento ho 55 anni un grosso modo mancano qualche mese a spanne parlando di vita media delle persone arriverò circa a 85 anni circa sempre che non becchi un cancro prima sempre che non mi si fermi il cuore sempre che non mi degenerano i reni sempre che il mio cervello non vada in pappa non prenda un ictus sempre che non mi prenda tutte quelle altre cose che nel corso della vita è facile che uno si prenda a spanne grosso modo diciamo stante la salute di adesso arriverò circa sugli 85 anni detto questo da 55 a 65 70 anni ho la possibilità dal punto di vista mentale di essere ancora propositivo dopodiché un po' alla volta chiaramente la struttura fisica degenererà sempre stando che non succeda niente di particolare degenererà per cui sempre più forze saranno tolte alla forza fisica e sempre più forze saranno buttate all'attività mentale finché naturalmente arriverò a morire per cui avendo vissuto 55 anni diciamo così a spanne grosso modo diciamo una trentina d'anni spero di morire prima naturalmente una trentina d'anni per fare ancora qualcosa quel fare ancora qualcosa non fa altro che arricchire la mia coscienza la mia consapevolezza la mia anima se volete e tutto quello che io faccio tutto quello che farò sarà un arricchimento di me stesso dopodiché creperò ma la morte sarà un piacere la morte sarà un successo perché in realtà vivo del piacere dell'accumulo della conoscenza della consapevolezza al di là poi degli strumenti che userò per farlo di come lo farò questo dipenderà da altre cose però comunque morirò non è che ho alternative di reincarnarmi di avere un paradiso di avere un karma di avere un ritorno alla vita fisica comunque morirò e come succede a me questo succede a tutte le persone tutti gli uomini e le donne e alcuni uomini e donne cercheranno la morte prima perché qualcuno ha costruito la loro disperazione cioè non saranno solo in grado di raccogliere nella vita quotidiana delle motivazioni forti per continuare a vivere consideriamo la vita naturale la vita normale uno dice vabbè io sono un uomo io sono una donna io faccio l'amore io ho dei rapporti affettivi io ho dei rapporti emozionali tutto questo mi dà piacere o comunque c'è uno scambio di emozioni ma se blocchi lo scambio di emozioni se blocchi il piacere tu automaticamente non hai più nessuna motivazione di vivere cioè nella vita hai solo dolore voi pensate una persona che deve alzarsi tutte le mattine alle 4 della mattina e che va a letto la sera tutte alle 10 di sera dopo aver lavorato per 18 ore alla catena di montaggio se questo non si suicida cosa gli resta? non gli resta nulla se non suicidarsi ebbene questo modo di essere appartiene a tutta la vita o la vita è arricchimento delle persone è input è attività delle persone per agirvi all'interno con le motivazioni che le persone trovano per agirvi e allora le persone vivono ma stanno vivendo in funzione della morte perché se la vita è input se la vita è azione delle persone è adattamento delle persone significa che le persone si stanno arricchendo si stanno arricchendo psichicamente emotivamente ed energicamente per affrontare al meglio la morte perché comunque la morte c'è ora se queste persone facevano l'amore e trovavano eccezionale il fatto di vivere proprio per fare l'amore perché gli piaceva talmente tanto ma anche da imbottirsi di viagra in atrofia nel momento stesso che il corpo degenera esistono le motivazioni per la morte cioè quando cessano le motivazioni della vita sorgono le motivazioni per morire e allora quando una società crea nelle persone una quantità tale di motivazioni per morire anziché per vivere significa che la società è malata perché la morte deve essere un piacere non deve essere un'induzione ma se la morte è un piacere significa che la vita deve essere un piacere superiore alla morte perché altrimenti l'unica cosa che ci resta è la morte ma se le persone riescono a vedere la morte come felicità nessuno le può più dominare perché comunque qualunque carognata mi fai qualunque merda tu mi butti addosso e io comunque muoio e tu non avrai mai il dominio assoluto su di me e allora se io ho l'idea che la morte è la mia felicità affronto la vita con infinita più forza passiamo alla felicità la morte è felicità umana e questo lo trovate sul sito la morte del corpo fisico è l'unico momento in cui si esprime la felicità umana tutta la vita dell'individuo è tesa verso la morte del corpo fisico la morte del corpo fisico è il traguardo che l'individuo deve raggiungere la morte del corpo fisico è il fine e la giustificazione della nascita di un individuo la morte del corpo fisico è la felicità dell'individuo il dolore della vita il dolore che la vita ha messo a fondamento delle trasformazioni degli individui nella morte del corpo fisico si scioglie e si annulla il trionfo dell'individuo c'è solo il momento della morte del corpo fisico il momento della morte dell'individuo è il suo momento di verità è il momento in cui l'individuo riassume l'intera propria esistenza la morte è disperazione solo per chi ha vissuto da disperato al di là di come ha tappato le orecchie alla propria disperazione eppure la morte è attesa da molti con terrore come un momento da allontanare il più possibile altri la cercano fannosamente per alleviare le proprie angosce terrore nei confronti della morte o ricerca spasmodica due estremi dell'umano fallimento nella ricerca della felicità il terrore per la morte o la sua ricerca come estremo rimedio è manifestazione del fallimento dell'esistenza umana quando non si pensa alla morte come un momento di felicità significa che la vita è stata vissuta in modo disperato ed ossessivo si spera di avere un'altra occasione si spera di avere ancora dell'altro tempo si spera di fare qualcosa che non si è mai fatto prima la morte è vissuta come disperazione per la fine della morte fisica la morte è vissuta con terrore per il dolore che implica il morire la morte è vissuta come ansia e dopo la morte è vissuta serenamente da chi obbediente è sottomesso estende la propria obbedienza e la sua sottomissione oltre al sogno della morte stessa mai la morte è vissuta come un momento di felicità mai la morte è vissuta come un buon compimento di vita eppure la morte è il momento più felice della vita umana è il suo trionfo e allora perché le persone temono la morte cito da Marco G il genio del paganesimo a proposito del discorso sulla morte come felicità dice Marco G il potere qualunque sia la sua forza non può niente contro colui che accetta di morire quanto a colui che esercita il potere ed eventualmente il diritto di vita e di morte egli non può niente contro la propria morte anch'essa sfugge al suo potere e lo mette in discussione più di qualsiasi altra cosa morte ed individualità sono legate così intimamente che il potere per suggerire di non essere puramente individuale nega simbolicamente la morte di colui che lo esercita oggi si dimentica il terrore educazionalmente imposto nei confronti della morte che può giocare sull'imprinting di specie che spinge l'individuo a diventare dei consumatori della società prima che la morte ponga fine alle loro trasformazioni non le persone temono la morte ma i padroni delle persone temono che le persone vivano la morte come un momento felice come dicono gli inni orfici come un buon compimento di vita si nasce soli e si muore soli e come diceva Quasimodo ognuno è solo sul cuore della terra trafitto da un raggio di sole ed è subito sera questo patos che le poche righe trasmettono è il terrore degli individui che gestiscono il potere di possesso delle persone per loro è già sera e vivono l'angoscia di perdere ciò che li rendeva onnipotenti la nascita viene celebrata come il trionfo della madre la madre come padrona del nuovo nato la morte appartiene solo al nuovo nato come il corpo dovrebbe appartenere solo al nuovo nato la morte scioglie i legamenti che l'essere natura ha imposto all'individuo la morte scioglie i legamenti che la società impone sull'individuo la morte libera dalle costrizioni la morte è l'unico trionfo individuale della persona la morte appartiene solo alla persona come il corpo appartiene solo alla persona siate felici nel morire nessuna catena e nessun obbligo vi lega oltre la morte del corpo fisico la morte si affronta per come si è vissuto con impegno e passione i pagani politeisti fanno della morte la signora della loro esistenza una signora da affrontare con la stessa passione con la quale si è vissuti la morte è l'unica vera e completa felicità dell'esistenza umana in cui tutto è efimero nelle trasformazioni nel mutamento nella tensione nel bisogno nella soddisfazione del medesimo tutta la vita umana è ricerca di libertà solo la morte è la verità in cui quella libertà si risolve e tutti quelli che hanno paura della morte beh succede a molti pagani a molti atei a molte persone di vivere il momento della morte come un momento di paura però non è la paura di morire è la paura di non aver finito tutte quelle cose che si dovevano finire cioè in pratica un pagano un ateo una persona attiva una persona che ha vissuto in maniera piena nella vita fa tante cose io ho visto morire uno dei più grandi pedagoghi italiani che diceva guarda io ho un corpo che ormai fa schifo ormai tutto rovinato ma io ho un sacco di cose da fare io avrei in progetto una commedia avrei in progetto da fare tutta una serie di cose bene la sua paura della morte non era la paura della morte era il fatto il rimpianto di lasciare delle cose incompiute di lasciare là delle cose che lui ancora voleva fare non era la paura della morte è il fatto che facciamo chi vive di felicità chi vive a piena la propria esistenza ha talmente tante cose che anche quando la morte lo coglie è là che sta facendo delle cose e lo sa che le lascia incompiute e c'è un po' di rimpianto nel lasciare le cose incompiute questo è vero non è la paura della morte è che ancora sono in grado di accumulare conoscenza sono ancora in grado di accumulare potere di essere di me stesso sono ancora capace di affrontare le contraddizioni della vita e la morte questo me lo porta via ma io ero ancora vivo io ancora sentivo il bisogno di fare delle cose e quando la morte ti prende in questo modo è il canto dell'eroe del Valhalla il canto dell'eroe degli Asatru dei vichinghi è il guerriero che muore sta morendo in combattimento perché non è morto distrutto nel suo letto il concetto che avevano i vichinghi e gli Asatru è che il Valhalla il loro paradiso era destinato soltanto a chi moriva per spada non era tanto il morire per spada in battaglia ma era morire finché ancora nella vita si stavano facendo delle cose cioè era la persona viva che affrontava con questa vita con questa vitalità della vita la morte e loro entrava nel paradiso in pratica non è altro che una visione della costruzione del corpo luminoso dell'individuo al momento della morte del corpo fisico che è una visione degli Asatru è una visione dei vichinghi dei popoli del nord cioè morire in battaglia non è morire perché qualcuno ti ammazza mentre sei in Iraq che spari ma è morire mentre combatti la battaglia della vita la battaglia della conoscenza mentre sei ancora vivo ed era il massimo dell'eroismo che era considerato nelle antiche religioni vichinghe nelle antiche religioni nordiche mentre invece nel cristianesimo c'è la morte per disperazione per assorbimento per distruzione i cristiani si dilettano a torturare le persone a vederle morire lentamente in caso Welby per esempio era il piacere che aveva Ratzinger nel vedere soffrire queste persone la sua goduria perché le vedeva spegnarsi un po' la volta e questo spegnarsi gli dava piacere gli dava il potere io non te la do la morte non avrai la felicità devi vivere nel dolore come un verme era questo che si compiaceva Ratzinger ed è vergognoso questo tipo di atteggiamento proprio perché priva le persone del possesso del proprio corpo del possesso della propria vita e in effetti vediamo come il cristianesimo si è molto legato a quella che è la risurrezione dei corpi ti ho fatto vivere come una merda morire come una merda ma ti darò un altro corpo se no ti sboccio ti entra il tuo corpo io vado oltre la morte è una porta è una soglia per un infinito e se mi permetti il mio corpo degenera ed è giusto che degeneri e spesso per riuscire a controllare le persone attraverso la paura della morte viene stillata come la morte come dolore cioè tu vivi non so fai un incidente stradale ti spezzi i quattro costoli ti spezzi un braccio una clavicola eccetera e sopporti un grande dolore fino alla guarigione no? bene l'idea del dolore viene estesa alla morte se una frattura se una malattia ci produce un piccolo dolore la struttura educazionale cristiana ci costringe a vedere nella morte un grandissimo dolore e questa immaginazione a cui siamo costretti a livello educazionale viene ritorta nei nostri confronti e torna indietro e noi viviamo la morte come un grande dolore ma non è così infatti in tutti gli studi della premorte cioè di chi è stato vicino a morire che poi è tornato indietro queste persone parlano di un senso di pace un senso di gioia la presenza di una forte luce la sensazione di trovarsi un ambiente da altro mondo di essere usciti dal proprio corpo con una percezione alterata dello scorrere del tempo queste sensazioni che ci vengono riportate indietro da chi è stato vicino ormai era dato per spacciato e era anche seccato perché i medici lo hanno anche riportato in vita ci dicono che il nostro corpo è in grado di predisporre a se stesso a morire cioè è talmente importante l'atto del morire che il nostro corpo ha già sistemato tutti quei meccanismi che ci permettono di affrontare la morte senza il dolore cioè la morte non è dolore noi abbiamo tutta una serie di rilascio di sostanze che vanno a a bloccare il cervello a bloccare i neuroni del dolore per cui la morte è effettivamente assolutamente indolore semmai è doloroso prima semmai è doloroso come arrivi verso la morte ma non il passaggio fra la vita e la morte il passaggio fra la vita e la morte non è doloroso e la scienza lo sta studiando proprio per riuscire a risolvere queste condizioni dell'NDE cioè le esperienze di premorte di chi è tornato e si accorta che in realtà non è dolore ma c'erano già altre storie ancora prima che arrivavano c'erano delle storie di dire io sono stato aggredito da un orso grizzly oppure da un leone che è riuscito a darmi un poche di zampatte mi credevo morto prima che il mio amico gli ha sparato lo ha fatto fuori mi ha sventrato ma non sentivo dolore dopo ho sentito il dolore ma non quando mi stava sventrando cioè noi abbiamo tutta una serie di meccanismi che ci predispongono alla morte e che ci fanno capire anche che cos'è la natura che cos'è la relazione fra gli animali perché esistono carnivori ed erbivori perché se la morte è il piacere l'erbivoro combatterà per vivere fin tanto che avrà delle motivazioni di vita finché nella vita troverà delle motivazioni superiori alla morte ma quando si troverà davanti alla morte davanti al carnivoro che lo mangia significa prima di tutto che non ha motivazioni forti alla vita perché è stato sconfitto e secondo mettere in atto tutte quelle strategie di rilascio di sostanze per cui arriverà la morte tranquillamente non come dolore non come orrore l'orrore della morte c'è essenzialmente nello spettatore ti faccio vedere l'altro come muore magari te lo torturo anche un po' prima ma questa è violenza questo è il crimine della società e tenete presente che il rapporto morte e angoscia era già stato affrontato da Freud e Freud nel suo trattato l'io e l'ess del 1922 parlando dell'io e del superiore dell'ess della morte dice la frase altisonante ogni angoscia è propriamente angoscia di morte è scarsamente significativa e non è comunque legittimabile mi sembra piuttosto senz'altro esatto asserire che l'angoscia di morte va distinta dall'angoscia per l'oggetto angoscia reale e dall'angoscia nevrotica della libido essa pone alla psicoanalisi un difficile problema poiché la morte è un concetto astratto con un contenuto negativo per il quale non si può trovare un elemento inconscio corrispondente l'unico meccanismo ipotizzabile per l'angoscia di morte è che l'io abbandoni in larga misura il suo investimento libico narcisistico ossia rinuncia a se stesso così come rinuncia a un altro oggetto negli altri casi di angoscia a mio parere dice Freud l'angoscia di morte è qualcosa che si svolge fra l'io e il superio conosciamo la comparsa dell'angoscia di morte in due situazioni che del resto sono del tutto analoghe a quelle in cui abitualmente si sviluppa l'angoscia come reazione a un pericolo esterno e come processo interiore per esempio nella melanconia ancora una volta il caso nevrotico può aiutarci a comprendere quello normale l'angoscia di morte nella melanconia ammette soltanto la seguente spiegazione l'io rinuncia a se stesso giacché invece che amato si sente odiato e perseguitato dal superio vivere è dunque per l'io equivalente ad essere amato a essere amato dal superio che anche qui compare in veste di rappresentante dell'ess il superio svolge la stessa funzione protettiva e salvatrice che anticamente ha svolto il padre in seguito alla provvidenza e al destino tuttavia l'io è costretto a giungere la stessa conclusione quando si trova in un pericolo reale di enormi proporzioni che non ritiene di poter superare con i propri mezzi si rende conto di essere stato abbandonato da ogni forza protettiva e si lascia morire infatti cosa dice Freud dice che lui usa il termine io e superio come io uso il termine superio e dio psichistico però dice se la tua ragione se la tua coscienza non si sente più amata perché non è più in grado di costruire delle strategie di piacere nella vita chiaramente si sente abbandonata e solo in quel momento accetta di morire o sceglie di morire ma finché tu avrai dei piaceri nella vita la tua coscienza il tuo io non sceglierà di morire sceglierà di vivere e finché avrà strumenti per organizzare la sua vita nella sua quotidianità il tuo io continuerà a lottare continuerà ad esistere continuerà ad arricchirsi all'interno delle contraddizioni della vita e questo è una cosa che ve l'avevo già accennata proprio parlando di Epicuro cioè Epicuro nella sua lettera Meneceo parlando della paura della morte lui dice renditi abituale il pensiero che la morte per noi non è nulla giacché ogni bene e male è nel senso cioè nei sensi e la morte è privazione dei sensi la retta conoscenza che la morte per noi non è nulla mette quindi in condizioni di godere della mortalità della vita come quella che non aggiunge un tempo infinito ma toglie la brama dell'immortalità nulla vi è infatti di cui possa temere nel vivere chi ha veracemente compreso che nulla vi è di cui possa temere nel non vivere e però parla a vuoto chi dice di temere la morte non perché la sua anima avrà a soffrirne quando sarà venuta ma perché ne soffre ora il pensiero che un giorno essa verrà ciò che infatti non dà molestia presente senza ragione rattrista mentre è atteso cioè se la morte non ti dà fastidio adesso perché devi rattristarsi nel pensiero che un giorno morirai abbia un pensiero felice e nell'antica religione nel paganesimo antico non esisteva il concetto di risurrezione della carne anzi era considerato come empio come cattivo come male proviamo un attimino a leggersi vi leggerò un altro pezzo visto che ho ancora qualche minuto prima di dar via alle telefonate ed è risuscitare i morti nelle antiche religioni pagane e politeiste e vi ricordo che tutti questi pezzi che vi ho letto li trovate tutti in internet al sito www.federazionepagana.it torno a ripetere www.federazionepagana.it tutto minuscolo e tutto attaccato risuscitare i morti nelle antiche religioni pagane e politeiste la biblioteca è un testo di mitologia molto tardo che ha il pregio di raccogliere quanto era rimasto e spesso cita episodi mitologici locali quando si analizzano gli dei e quanto emerge dal loro comportamento è necessario tenere presente che l'insieme culturale sta cambiando stiamo andando verso il monoteismo il monoteismo è preceduto dalla critica filosofica che già aveva modificato il significato del mito il monoteismo viene preceduto dalla critica stoica paripatetica platonica e neoplatonica quando il pseudo Apollo d'oro scrive la biblioteca è nata una polemica del cristianesimo nei confronti delle antiche religioni se il cristianesimo tingerà a piene mani dallo stoicismo dal neoplatonismo e in epoche successive dal platonismo d'aristotele la religione greca romana egiziana eccetera vengono bollate come demoniache o ridicolizzate al fine di far emergere la superiorità del cristianesimo eppure gli dei sono nonostante i filosofi capaci di raccontarci qualche cosa di importante anche e soprattutto per capire la religione pagana politeista di oggi come in questo brano relativa ad Asclepio Apollo e Zeus su cui oggi mi soffermerò per alcune riflessioni nella biblioteca di pseudo Apollo d'oro si legge Asclepio diventò abile e perfezionò la sua arte al punto che non solo riusciva a salvare i malati ma risuscitava anche i morti da Atena infatti aveva ricevuto il sangue che era sgorgato dalle vene della gorgone e lui usava quello delle vene di sinistra per far morire gli uomini e quello delle vene di destra per salvarli e in questo modo poteva anche far risuscitare i morti fra coloro che si dice siano stati risuscitati da lui lui sono Capaneo e Licurgo come afferma Stesicoro nel Erifile Ippolito come dice l'autore di Naupactica Tindaro come riferisce Pagnassi Imeneo secondo gli orfici Glauco figlio di Minosse come narra Melesagora ma Zeus temendo che imparasse da lui l'arte di curarsi e di soccorso temendo che imparassero che gli uomini imparassero da lui l'arte di curarsi e di soccorso tra di loro lo fulminò allora Apollo addirato uccide i ciclopi che avevano forgiato il fulmine per Zeus Zeus stava per scagliare Apollo nel tartaro ma cedette alle suppliche di Latona e gli impose di porsi al servizio di un uomo mortale per un anno intero Apollo andò a fere presso Meto figlio di fere e pascolava il bestiame al suo servizio fece sì che tutte le vacche partorissero due vitelli per volta biblioteca 3 120-123 preso dalla biblioteca di Apollo d'oro edizione Lorenzo Valla a cura di Paolo Scarpi questi aspetti dell'antica regione greca hanno colpito molto gli estensori dei Vangeli e hanno influenzato nell'elaborazione della figura del loro Gesù solo che i cristiani hanno assunto la forma che meraviglia la popolazione meno acculturata quella che non conosceva il senso del mito un senso del mito che si stava perdendo per essere ridotto a pura favoristica per riuscire a comprendere il senso del mito è stato necessario passare attraverso l'orrore dell'assolutismo cristiano e uscirne mediante un lungo processo sociale con lo sviluppo della scienza e della filosofia della libertà quali prodotti del bisogno della vita degli esseri umani così la miseria dottrinale del cristianesimo che riduceva tutto al solo aspetto fisico potesse superata per il cristianesimo il loro profeta è la parola il verbo l'aspetto più misero e più equivocabile della comunicazione umana il dio dei cristiani crea la forma dell'uomo con il fango il dio dei cristiani ha bisogno di controllare i corpi la sessualità degli esseri umani Gesù stesso promette la vita fisica eterna e la rinascita dei corpi il cristianesimo è quanto di più materialistico e metacanicistico esista nella vita dell'uomo la risurrezione di Lazzaro è vista come una grande opera di Gesù contro la morte e la risurrezione di Gesù è sempre stata interpretata dai cristiani come la vittoria di Gesù sulla morte la morte per i cristiani è estranea alla vita questo in contraposizione all'idea pagana politeista delle antiche religioni per cui l'essenza e il significato della vita è la morte del corpo fisico è la morte del corpo fisico che dà il senso alla vita mentre il cristianesimo sia con Gesù che con Polo di Tarso promette la vita eterna e la risurrezione dei corpi e di imitazione della risurrezione di Gesù Zeus colpisce Asclepio per la sua attività il concetto mitico è molto più antico delle motivazioni della sua azione che Apollo d'oro attribuisce a Zeus con quale motivazione Zeus colpisce Asclepio ma Zeus temendo che imparassero da lui l'arte di curarsi e si soccorressero fra di loro lo fulminò e questo dopo che Apollo d'oro ha indicato che cosa ne faceva Asclepio del sangue della gorgone che aveva ricevuto da Atena lui usava quello delle vene di sinistra per far morire gli uomini e quello delle vene di destra per salvarli in questo quadro l'arte di Asclepio ci appare come l'esercizio di un potere di determinare la vita al di fuori delle sue regole lui fa morire chi vuole lui guarisce chi vuole e chi vuole fa risuscitare questa visione del Dio al di fuori delle regole è una visione molto tarda e quasi contemporanea al cristianesimo ed è in questa scia che viene scritta la figura di Gesù un individuo fuori da qualsiasi regola il padrone del sabato il torturatore degli uomini Zeus fulmina Asclepio perché Asclepio viola le regole della vita viola le regole del fato Asclepio costruisce il terrore per la morte del corpo fisico e anziché stimolare gli individui affinché affrontino al meglio la loro vita per affrontare al meglio la morte del corpo fisico li riporta nel corpo fisico nel già conosciuto Asclepio viene fulminato perché si fa provvidenza e guarda caso è la stessa cosa che fa Gesù il pazzo di Nazareth non attrezza le persone per affrontare la loro esistenza ma promette loro la risurrezione della carne a patto che loro distruggano se stessi con la fede in lui ed è esattamente ciò che Zeus condanna rendendo furioso Apollo Zeus condanna il delirio di ogni potenza di Asclepio condanna il fatto che Asclepio riporta nel corpo ciò che avrebbe continuato a vivere come un dio a meno che non abbia rinunciato alla propria possibilità rinunciare alla possibilità di eternità che ha il momento della nascita ogni essere della natura la morte del corpo fisico è il momento di passaggio in cui il potere di essere che il soggetto ha accumulato nella propria esistenza si trasforma in una forza capace di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso la trasformazione del soggetto in un dio rinunciare alla possibilità che si è avuta è il messaggio di Gesù solo che Gesù non trasforma gli esseri umani in dei a Gesù interessa che gli esseri umani siano asserviti a lui non uguali a lui o superiori a lui ed è per questo che Zeus condanna Asclepio Zeus non teme che gli esseri umani imparino l'arte di curarsi e di soccorresi soccorresi Zeus condanna l'onnipotenza che imponendosi sugli uomini li costringe a rinunciare alla loro opportunità per trasformarsi in dei Apollo non è un dio della metamorfosi Apollo è il principio maschile della vita non è un dio che attraversa delle trasformazioni morendo e rinascendo Apollo è il principio maschile della vita il perturbatore della vita non è Dioniso che si trasforma in un dio morte dopo morte non è Adone e non è Persefone non c'è trasformazione in Apollo solo il potere dell'espansione e il potere di trasformare la vita il principio femminile ed è colpendo il potere dell'espansione di Apollo che Zeus ne umilia l'attività mettendolo a servizio di un mortale ci coscrive il suo potere all'interno degli ordini di un mortale che ha bisogno scusate un attimo lo mortale ci coscrive il suo potere all'interno degli ordini di un mortale che ha bisogno solo mortali nel testo del pseudo Apollo d'oro sembra quasi che Apollo sembra quasi che Apollo faccia un regalo ad Admeto agendo affinché ogni vacca partorissa due gemelli scusate un attimo per piacere vedete che finisco grazie quasi Apollo faccio un regalo ad Admeto finché ogni vacca partorissa due gemelli in realtà non fa altro che manifestare ciò che lui è nell'espansione culturale che qualifica la potenza di ciò che egli è il principio maschile della vita e come principio maschile della vita si esprime anche nelle vacche che porta il pascono partoriscono due gemelli ogni volta moltiplica il patrimonio del mortale per cui lavora Apollo non è solo il pastore delle vacche si esprime anche nel toro che le monta quando la biblioteca del pseudo Apollo d'oro fu scritta si era perso il ricordo teologico degli dèi la loro rappresentazione reale era rimasto il racconto ma non il significato teologico così la morte del corpo fisico viene detronizzata dal suo ruolo centrale dal suo significato religioso e sostituita col bisogno di immortalità fisico ingenerata dal monoteismo nelle motivazioni che il pseudo Apollo d'oro attribuisce a Zeus c'è un eco delle paure del dio dei cristiani ecco dice il dio dei cristiani l'uomo è diventato come uno di noi un dio avendo la conoscenza del bene e del male facciamo sì che non colga dall'albero della vita per vivere in eterno tolta la centralità della morte del corpo fisico nelle antiche religioni si toglie anche come si vive si tolgono le strategie di esistenza attraverso le quali affrontare la morte del corpo fisico allora rimane solo la disperazione davanti all'imminente morte e questa disperazione si trasforma nell'illusione di una provvidenza che operata dal Gesù di Nazareth o da Asclepio riporti l'individuo nel corpo fisico concedendogli una seconda possibilità Zeus fulmina Asclepio perché crea l'illusione di una seconda possibilità che nessuno avrà mai e questo vi ricordo che è un altro pezzo che trovate su federazionepagana.it e si intitola risuscitare i morti nelle antiche religioni pagane e politeiste ed è il concetto della morte come idea di piacere e non come idea distruttiva e ricordatevi sempre se non sapete riuscire se non riuscite a vedere la morte come senso del piacere difficilmente riuscite ad affrontare la vita come piacere di tutto ciò che nella vita si esprime perché questo è importante che noi dobbiamo sottolineare cioè la vita è piacere la vita deve essere un piacere qualcuno direbbe la vita ha un significato no il significato della vita è il piacere è la ricerca di tutte quelle condizioni che all'interno della vita ci arricchiscono per divenire in continuazione e ci arricchiscono la nostra psiche la nostra quantità di esperienza la nostra chiamiamola anima se volete ma è il corpo luminoso che plasmiamo in tutte queste condizioni che sistematicamente affrontiamo ebbene queste condizioni che affrontiamo anche se sono condizioni dure devono essere sempre condizioni di piacere condizioni di afferrare il bello afferrare le cose che ci danno piacere perché quando le cose non ci danno piacere c'è la disperazione che porta la morte ma quando la disperazione porta la morte significa che la morte stessa è vista come risoluzione di una disperazione e disperazione a sua volta ma se noi riusciamo a vedere la morte come il momento di piacere l'essenza stessa della vita la vita esiste solo perché esiste la morte solo perché esiste la fine della vita stessa e si riproduce in continuazione attraverso nuovi esseri allora riusciamo a comprendere come che se noi moriamo non è che finisce il mondo non c'è la fine del mondo ma c'è qualcuno che va avanti e allora distinguiamo le due cose le cose che facciamo nella nostra vita quotidiana le cose che facciamo nella società le cose che facciamo per costruire la nostra esistenza e le cose che facciamo per l'esistenza degli altri dove a noi ci resta solo la parte psichica ciò che costruiamo per i nostri figli fra virgolette che sarebbe ciò che noi costruiamo per la società ciò che noi facciamo di propositivo per il sistema sociale in cui viviamo che è cosa diversa da ciò che noi ci arricchiamo e che ce lo portiamo con noi perché ciò che è il nostro arricchimento psichico ciò che è il nostro arricchimento emotivo noi lo portiamo oltre la soglia del corpo fisico ma se noi vediamo la morte come un momento di piacere vediamo anche nella vita tutto ciò che ci dà piacere e vediamo nella vita la necessità di costruire condizioni che danno il piacere della vita e allora non c'è più il dominio mediante il terrore perché chi non ha paura della morte non può essere dominato non può essere trasformato in oggetto chi nella morte trova il piacere non può essere dominato ricordatevi il dominio avviene solo nel terrore ma ci sono vari gradi di terrore ce n'è uno talmente intimo talmente profondo che le persone hanno paura di affrontarlo 049 600 049 600 838 e vi parlerò intanto degli appuntamenti che ci saranno pronto ciao 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 attento per cui o anche perché diciamo di fronte a morte diciamo verso la fine della vita quando uno si è mai a la disperazione un quagliossi minuti Claudio godi un problema qua in radio in regia dimmi dai va avanti la disperazione classica insomma di fronte a morte imminente magari perché se uno si è mai a una malattia naturalmente perché non si è diciamo non si è affrontare naturalmente si è difficile affrontare la morte come una non cosa negativa una non negatività ma una cosa che continua continua una cosa positiva sì ma anche anche se non continua quando arrivi il momento della morte significa che hai esaurito il tuo tempo esatto per cui è soltanto un'attesa inutile e dopo voglio dirti un'altra cosa adesso l'accumulo dell'accumulo per esempio è come un allungare un vuore allungare la vita per esempio il via del lesere prendo libri compro libri inconsciamente o consciamente consciamente più che tutto perché lo so mi rendo conto che compro libri e so che non finirò mai di lesere che devo dire certo e rischia di rimanere al rimpianto però finché tu hai il piacere di leggere nessuno cioè tu non avrai mai il desiderio di morire no? esatto perché il piacere dell'amore scusate un attimo sono disturbato se può uscire mi fa un favore grazie è la prima che ha pagato la radio la prima che ha pagato va bene signora va bene la sorella di Franco Carraro posso si ma si devo dirle una cosa il che non interessa mh sono stronti tutti i primi ho dei problemi particolari mi è venuta la moglie di Franco Carraro non vorrei che fosse successo qualcosa non ci ho capito niente purtroppo vabbè ho fatto qualcosa che non so non capisco se è venuta questa persona che io non la conosco purtroppo mi è venuto in regia e io qua da solo non sono riuscito a capire cosa è successo o cosa volesse non vorrei che fu successo qualcosa a Franco Carraro perché non so scusami come lei vanno a metodica sì non so esattamente cosa la signora volesse spero che non sia successo qualcosa a Franco Carraro che lui sa dirmi qualcosa di particolare a Franco Carraro mi ha dato lo stronzo probabilmente perché non ho capito cosa lei voleva dire o cosa stava per dire o cosa era importante dire altronde sono qui da solo in regia io spero che non sia successo qualcosa a Franco Carraro a sto punto visto che non ci ho capito un cazzo è quello che lei voleva dirmi vabbè signori purtroppo è andata così anche questa trasmissione mi spiace moltissimo altronde quando si è solo in regia non si sa esattamente chi viene o perché viene vabbò mi sono preso dello stronzo e vabbè vabbè così dai va bene così allora diciamoci una cosina vi do allora l'appuntamento per vi do l'appuntamento per questa sera a Saonara andiamo un attimo pronto dimmi ok va bene fermo un altro discorso si si che sono 19 speriamo che non sia niente dai mi sono so perché hai capito non sono più un cazzo non ho capito niente hai capito io ho capito io ho capito mi ho capito che è la prima che ha pagato la radio sì no chiaramente io mica la conosco capisci anche se magari l'ho vista qualche volta io ho due persone mi la conosco una mi viene dentro in regia così io non so come reagire cioè non è non è che gli ho fatto una malagrazione o qualcosa non capisco ecco va bene andai non che va ciao ciao pronto ho solo da farti dei complimenti vivissimi perché mai mi è piaciuta una trasmissione come oggi perché sei stato di un realismo unico io mi permetto di dire questo sai sono fuori di testa perché però per me hai toccato indipendentemente dalla mitologia proprio hai detto delle cose che tocchi con mano ti ringrazio ciao ciao pronta l'adegamma pronta va bene allora vi do appuntamento intanto vi ricordo questa sera che siamo al public di montegrotto pronto si scusa ti hai ascoltato la radio ho sentito che è intervenuta una signora dicendo di farlo mi è arrivata una persona in regia ma non so esattamente cosa voleva potresti chiedere a questa signora è andata via arrabbiata mandandomi a quel paese non non so esattamente anche per tranquillizzare tutti i radio soldatori lo so a questo punto non so cosa dire capisci cioè io sono qui in diretta sono da solo effettivamente sto oltretutto oggi fatta itano non ho francesco non ho neanche potuto parlarci ti capisco perfettamente vabbè comunque spero qualche spieghermi faccia sapere qualcosa insomma mi dicassimo se ti vuoi parlare di Carraro si no questa persona qua ha detto di essere la sorella di Franco Carraro per venire dentro se puoi chiedere se la è andata via è andata via arrabbiata per cui venendo con questa furia che è venuta capisci chiaramente probabilmente aveva qualcosa di importante da dire ma se era importante rimaneva no? ma penso non so mi ha mandato a quel paese probabilmente si è sentito offeso dal mio atteggiamento non so no a questo punto speriamo che non sia successo niente no adesso effettivamente sono abbattuto sono preoccupato insomma è tutto là insomma magari se abbiamo notizie va bene non so cosa dire purtroppo oggi fatta ità oggi sono da solo e naturalmente il cambio non è ancora arrivato non è ancora arrivato non è ancora arrivato perché la sera non può fare regia a parlare oltretutto stavo anche leggendo un testo per cui non è che avessi possibilità di metterci non faccio musica capisci e stavo ero concentrato su un testo per cui oltretutto doveva già arrivare il cambio non ho ancora il cambio che è arrivato per cui non ho neanche il compagno di trasmissione e mi trovavo in questa situazione si ma la situazione è compensibilissima solo è stato il cognome che ha fatto è quello che ha detto andando via arrabbiata che mi ha preoccupato va bene ok buon fine rientro buon altro bene ci sentiamo questa sera 19 speriamo non ci sia niente ciao ciao purtroppo adesso ormai queste sono le condizioni che si sono verificate altronde siamo una piccola radio una piccola radio che ha i mezzi che ha e trasmettiamo come possiamo va bene allora vi ricordo che questa sera alle ore 19 alle ore 21 diciamo così siamo a Montegrotto e vi do appuntamento naturalmente a Saunara col dibattito con Laura Rangoni Laura Rangoni che terrà una conferenza per le scuole medie di Villa Torra di Saunara a Padova in via Don Milani pronto la parlo con Gama 5 si e mi chiede la linea lì a abiti Santa Tonino eh ma non mi preoccupo io di queste cose devi trovare la sua speaker che si occupa ah non puoi mi trasmettermi non so se vuoi di la linea da dargli non so non so neanche di cosa stia parlando effettivamente ok va bene ciao ciao pronto ciao Gianna rilassati dai perché perché la tua trasmissione è una trasmissione importante è tremare persone che vanno a paura della morte si è testa gioire persone che voglio dire scoprire il percorso che dalla vita porta alla morte giusto? si il problema è che io adesso mi hai aiutato questa castagna sulla testa ma molto volamente ho sentito lei praticamente ti ha detto che siete strozzi perché è stata una delle prime che ha pagato la radio ma molto volamente voleva informazioni ma non penso che voleva dirti qualcosa ma non so va bene non lo so adesso mi sono nominato della trasmissione finale ma che finale va bene dai se aveva bisogno di dirti qualcosa di importante si fermava va bene dai speriamo di così sai cosa possiamo dire della morte che è la continuazione della vita si è un giusto se abbiamo vissuto una vita piena vivemo una morte pacifica esatto abbiamo vissuto una vita un po' e speriamo di fronte alla morte fa bene dai devo metterti su sulla Marisa ciao ciao Gianna auguri grazie ciao ciao niente io vi saluto tutti arrivato finalmente a Marisa e vi lascio con lei metto su subito la pubblicità e vi do appuntamento alle ore 19 ciao 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 ciao